La scorsa notte si è finalmente concluso l'iter di approvazione dei 16 articoli della finanziaria, 12 dei 42 previsti inizialmente e 4 prelevati dal disegno di legge collegato. Oggi il voto finale perché nella notte è tornato a mancare il numero legale. Nel documento si prevedono tutte le spese necessarie alla sopravvivenza della regione, quelle legate alle polemiche degli ultimi mesi, ma non c'è una sola scelta politica. Ci sono i soldi per i disabili, in gran parte prelevati dal fondo pensione dei regionali. Il Presidente annuncia la sua promessa mantenuta e parla di quasi 250 milioni, ma in realtà i nuovi fondi sono i 36 milioni dei discussi e emendamenti delle ultime settimane. Gli altri sono quelli ordinari per la cura, l'assistenza a carico del servizio sanitario, di quello socioassistenziale di Aspe e Comuni. Persista la polemica sul fondo pensioni, dagli accantonamenti dei contributi versati dai dipendenti regionali, vengono prelevati non solo i soldi per i disabili, in gran parte imposti come spese comuni, ma anche i fondi per l'acquisto degli immobili che la regione aveva venduto ad un fondo per poi riaffittarli e che adesso riacquista caricandone l'onere proprio sul fondo pensioni. Stanziati poi 6 milioni di euro per l'avvio al lavoro degli export e listi, ci sono i fondi per i forestali e per i consorsi di bonifica, ma anche il sì alla norma sugli enti liquidazione, tra cui EAS, ESPI, EMS, Terme di Acireale e Sciacca, oltre che l'Arsea, l'Agenzia della Regione per l'erogazione in agricoltura. Via libera anche alla norma per la stabilizzazione di circa 6 mila auso, ovvero precari degli enti locali utilizzati come amministrativi e salvataggio per i precari e pensionati ex ASI, oggi IRSAP. Intanto da Roma è arrivata l'ennesima impugnativa di una legge regionale bloccata la norma sui commissari in ASP e ospedali.